Le barriere non cambiano, non sono messe bellissime, però sono indicative del nostro spirito le barriere, se guardate quali sono. Dicono molto di come la parola. Questo è il camion che sta caricando il materiale da portare a Codigoro dove abbiamo il reparto di sbaveria, di sabbiatura e bovatura, andiamo caricando i pezzi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.